eccoci qua allora adesso dobbiamo a questo punto fare due dobbiamo creare due barchette andarcene via da qui Aaron perché adesso prendiamo quello che si può prendere l'essenziale si prendiamo i minerali e basta cioè le cose più importanti purtroppo si deve andare via da questa bellissima isola lasciamo qua quello che non serve il legno lo prendiamo che mi prendo tutti i minerali si bravo allora ci prendiamo anche la bella zappa tutto quello che non serve la carne la prendo prendiamo gli scalini li tengo prendiamoci una fonte di cibo torce di legno allora lascio qua anche qua anche io allora adesso prendiamo dammi la barca ah me l'hai già dato ok allora un attimo sono solo patti che allora ce la fai a prendere tutto questo questi temi che intanto prendo questo grande natura si prendiamo tutto abbiamo il secchio no si si lo porto dietro con me allora dove andiamo andiamo di qua abbiamo preso tutto qua di semi ma si più o meno tanto li riprendiamo con niente ok allora vai posiziona la bacchetta aspetta un attimo provo ad andarci ci sono salito anch'io ah ok perfetto vai andiamo per mare via papi ci sono le pecore dove guardate la tua sinistra cazzo allora possiamo non andare via sicuro eh si rimaniamo qui aspetta che c'è il taglierino aspetta che ci doi eh si non dobbiamo andare via che bello ok prendiamo tutta la natura ora però le macchie le pecore si per ora si però a questo punto possiamo anche pensare di farci eh la lascia eh si attenti dietro che c'è un clipper dove? nel fondo bestia boh torniamo a casa non dobbiamo andare via che bello vai prendiamo la barchetta vai guido io va e non ci facesse salire comunque prova abita adesso adesso sulla barca non sei dentro ah ok vai che bello non dobbiamo andare via lasciamo qui la barca nel caso scriviamo sì perché c'è scritto ch contro il casco ah cromailson ah ecco vai ok che bello eravamo partiti di dover andare via invece sono veramente euforico allora semi di anguria disseminiamo subito porca miseria stavano già crescendo oltretutto beh dai pazienza su torri scusami niente allora zappiamo qua eh Aaron sta facendo buio o sbaglio si sta facendo buio eh direi di sì ok abbiamo seminato le anguria dovremmo fare anche un orto di grano poi eh così facciamo anche il pane quello dedicato al grano dice eh così faremo anche il pane comunque adesso andiamo in casa intanto che bello non dobbiamo andare via questa è una bella notizia chiudi eh mi raccomando depositiamo ridepositiamo tutto allora qua cosa c'era? allora qua c'erano tutti gli alimenti ok si vabbè qua ci avevo messo la roba che non servivo qua ci stanno le cianfrosegliotte via qua cosa c'era qua in questo qua e materiali ok rimetti i materiali dentro allora intanto io sto facendo tutto c'è sto mettendo a posto tutto rimettiamo un po' di carbone dentro la fornace ah si a proposito devo fare la carne che bello prendiamo una parte li mettiamo qua ok ragazzi vi ricordiamo che stiamo facendo la modalità art ora quindi se si muore si muore per sempre quindi direi che questa serie sta durando anche molto allora andiamo a creare subito il letto che abbiamo il materiale il tanto sudato e agognato letto esatto finalmente Aaron abbiamo un secondo letto possiamo far venire il giorno in un istante grazie Dio ok papi lo sai che sta piovendo? si quindi adesso questo cosa vuol dire che noi possiamo andare alla ricerca di giorni di robe andare a prendere animali fare recinti ah a proposito papi dormiamo e poi andiamo a spianare un pochino il di giorno fuori che andiamo a crearci dei recinti da ospitare degli animali grazie